Eccoci a dare uno sguardo allo shop del 15 giugno. Abbiamo queste coperture, grimoira, piccone, delirio, il cornuto, poi pacchetto galassia, poi vediamo il bundle armadietto pizzo, animale da palcoscenico con la batteria in spalla, il pungiglietto, vespa e gorgogliante, massacro, scusate, eccola qua, questa è bellina, accordo potente, è proprio bella come skin, questi emote, come onda onda, che lo conoscete, e questi che avete già visto, c'è un nuovo pacchetto, eccolo qua, da 3,99 euro, con questa skin, zainetto, e piccone, con 600 VBAC, con 600 VBAC, per il resto, avete già visto tutto, ciao pixelini, mi raccomando, usate il codice pixel squadre, nello shop. e poi,